ciao a tutti questa sera riprovo il modem a or ar di 9800 digital voice però sono in ascolto con un apparecchio un po più serio torno a trasmettere ecco qui un ruolo di analogico con la tua trove con il mio digitale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso sono in digitale e di là si vede lo spettro come si fuori questo tipo di emissione. Allora torno a dire che è un modem AOR ARD9800 preso essenzialmente per la digital voice però fa anche SSTV nonché tv a stensione lenta ma da foto anche a colori. Ok, torno in analogico per salutarvi. Ok, eccomi qui nuovamente in analogico. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao a tutti.